Si riparte da Coiano, dopo un anno, stessa location, la casa del popolo, ma atmosfera totalmente diversa, niente liti e animi esagitati, ma un clima disteso e costruttivo con l'intento di far voltare pagina alla Ciprato. Adesso Orgoglio Pratesi ha messo nero su bianco il preliminare di acquisto del 51% della Ciprato e chiede sostegno alla tifoseria per accogliere entro il 15 di giugno, gli 800 mila euro che serviranno a trasformare il preliminare in vendita vera e propria. Il progetto sembra aver trovato il supporto e il pieno appoggio della tifoseria. Io ritengo che sia un progetto valido, che ci consente di liberarci da 38 anni di dittatura e questo tipo di iniziativa deve essere necessariamente supportato perché è la prova lampante di quello che noi potremo fare in ambito cittadino per non essere sempre succubi di altre città ed essere il fanalino di coda della Toscana. Nell'incontro di ieri sera Orgoglio Pratesi ha tracciato anche un bilancio di questo primo periodo di operatività. 300 mila euro già raccolti ma ancora un mese di tempo per centrare l'obiettivo. Le speranze possano essere quelle per un futuro migliore e per avere una sorta migliore per le sorte della Ciprato. Fino ad oggi abbiamo sofferto tantissimo e questa potrebbe essere la soluzione migliore e speriamo che lo sia per davvero. Il nuovo progetto sta prendendo campo mentre la squadra sta cercando di ottenere la salvezza sul campo sebbene i play out siano quasi una certezza ma anche questo elemento calcistico non scoraggia la voglia di cambiamento. Io spero che questo tentativo abbia successo, che la squadra possa permanere in serie C per il prossimo campionato e che il prossimo campionato sia più soddisfacente con un assetto dirigenziale diverso da quello attuale. Speriamo di fare un campionato migliore di questo ci vuole poco, diciamo almeno un campionato di alta classifica. Queste sono le speranze della gente e piano piano cercare di portare un po' di gente allo stadio perché ora c'è tantissima delusione. Insomma Orgoglio Pratese continua spedito il proprio percorso e dentro la fine del mese annuncerà anche le nomination per la carica di presidente e di direttore sportivo. La costruzione del nuovo prato targato Orgoglio Pratese continua.